La misericordia non è un sentimento passeggero, ma la sintesi della buona notizia, capace di guidare i nostri passi, ispirare le nostre riforme e illuminare le nostre decisioni. Papa Francesco lo ricorda la cura romana, ricevuta in Vaticano per gli auguri di Natale e offre nel contempo un catalogo delle virtù necessarie per vivere il tempo di grazia del Giubileo della Misericordia. Ricordando il dolore, gli scandali vissuti anche in questo anno e la riforma della curia che va avanti, il Papa esorta a tornare all'essenziale, nonostante le fatiche e le cadute che sono però occasioni di crescita e mai di scoraggiamento. 12 le indicazioni offerte, dalla missionarietà e pastoralità a basi per comunicare al meglio la fede e prendendosi cura degli altri, all'idonità e sagacia che sono contro le raccomandazioni e le tangenti, la risposta umana alla grazia divina. Il Papa ricorda che chi rinuncia alla propria umanità, a qualità che ci distingue dalle macchine, rinuncia a tutto, che la fedeltà e la vocazione permettano di evitare gli scandali, minaccia alla testimonianza cristiana. Razionalità e amabilità per l'equilibrio della personalità, poi la capacità di far emergere il meglio di se stessi, che implica l'onestà anche con Dio e il rispetto per chi tiene in giusta considerazione gli altri, il rispetto per i propri superiori, le pratiche e le carte, per il segreto e la riservatezza, poi l'umiltà che è la virtù dei Santi. Altro consiglio di Francesco riguarda non lasciarsi impaurire dalle difficoltà, ma senza farsi dominare dall'ambizione. Infine, l'affidabilità che significa non tradire la fiducia accordata e la sobrietà che è uno stile di vita, un guardare il mondo con gli occhi di Dio e lo sguardo dei poveri. E' inutile aprire tutte le porte sante di tutte le basiliche del mondo se la porta del nostro cuore è chiusa all'amore, se le nostre mani sono chiuse al donare, se le nostre case sono chiuse all'ospitare e se le nostre chiese sono chiuse all'accogliere. Grazie.